A chi non è capitato di finire su un sito internet che pubblicizza la vendita di oggetti scontati di oltre un terzo rispetto al valore di mercato. Su internet è possibile spuntare ottimi prezzi, rinunciando però ad alcune garanzie. Quando si è sicuri che non si tratta di prodotti falsi, viene il dubbio però che si tratti di merce rubata, o comunque di provenienza dubbia. Ecco che allora, prima di procedere all'acquisto, anche il consumatore più inesperto e ingenuo dovrebbe porsi una domanda. Cosa rischio nell'acquistare un oggetto rubato? Come avremo modo di vedere tra poco, il fatto di essere in buona fede non sempre vi salva dal rischio di un'incriminazione penale. Perché mai? Prima di procedere all'acquisto dovremmo davvero trasformarci in investigatori per verificare la provenienza dell'oggetto? A spiegare i rischi di chi compra oggetti rubati è stata più volte la Cassazione. La Corte si è trovata a giudicare il comportamento di un giovane che aveva acquistato un cellulare e non da un negozio ufficiale. Lo stesso ragionamento però potrebbe essere fatto per chi compra un paio di scarpe di marca, un orologio, una borsa firmata da una bancarella ambulante o nel corso di una svendita fatta per strada. Sono le condizioni ambientali in cui avviene l'acquisto che devono far desistere dal concludere il contratto. Basta un ragionevole sospetto per far passare un brutto guaio all'acquirente sproveduto. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa rischia chi acquista un oggetto rubato. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati sulle ultime novità del mondo legale. 3, 2, 1, sigla! Questa è la legge! Partiamo subito da ciò che dice la legge. Il codice penale prevede il reato di ricettazione a carico di chi acquista cose provenienti da qualsiasi delitto, i vi compreso il furto. Si rischia la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 10.329 euro. Il reato scatta a prescindere da quale sia lo scopo perseguito dall'acquirente. Basta che questo intenda procurarsi un profitto. Profitto che può quindi consistere anche nel semplice risparmio ottenuto rispetto al prezzo praticato dai canali ufficiali. La legge richiede infatti che l'imputato acquisti o comunque riceva cose che provengono da un precedente reato al fine di trarne profitto. Pertanto elemento essenziale per la configurabilità di questo reato è da un lato l'acquisto di cose di illecita provenienza e dall'altro la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene in proprio possesso. Dovete tenere bene a mente questo fatto per la ricettazione necessaria alla malafede, ossia la piena consapevolezza che si tratti di roba rubata. Non è necessario che ve lo dica il venditore, scusa sappi che stai comprando un oggetto rubato. Ma se vedete un forgone ai margini della strada che vende rotoloni scottex a 3 euro il pacco e poi vi dice Ehi, senti, vieni con me dietro, ti interessa un Rolex originale a 1000 euro e allora sì, c'è la vostra malafede, ossia la piena consapevolezza che si tratta di merce rubata e vi fate il carcere. Ma andiamo avanti. C'è poi un secondo reato, quello di incauto acquisto. Qui non conta la conoscenza della provenienza illecita, basta il semplice sospetto, stabilisce la norma. Chiunque senza averne prima accertata la legittima provenienza acquista cose che si abbia motivo, semplicemente motivo, di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda non inferiore a 10 euro. Qui la punizione è più lieve della ricettazione perché in questo caso non c'è la malafede, ossia il dolo, ma la semplice colpa. Nell'incauto acquisto non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente avuto sospetto che l'oggetto comprato fosse rubato, basta il fatto che avrebbe dovuto porsi una domanda. Quindi questo elemento sussiste tutte le volte che la situazione è tale da ingenerare dei dubbi in chi fa uso della normale prudenza. Quindi fuori dal caso del camionista che abbiamo visto prima, immaginate il caso di una persona che compie un cellulare ancora impacchettato e col cellufan da un'altra persona che glielo fa a metà del prezzo e gli dice me lo hanno regalato ma io lo avevo già e sto cercando di smerciarlo. Insomma ragazzi, chi è così tontolone da pensare che chi ha già un oggetto non tenti prima di ottenere un buono dal negoziante e in caso di venderlo al prezzo ufficiale o comunque di poco al di sotto, non certo a metà? Qui c'è una chiara colpa e pensate anche a chi compra un orologio nuovo di marca ma senza la prova d'acquisto che potrebbe servire per la garanzia. Dunque nell'incauto acquisto non conta tanto la consapevolezza circa la provenienza dell'oggetto quanto piuttosto il comportamento poco prudente da parte dell'acquirente. Il semplice fatto di essere incauti, pur se in buona fede, è sufficiente per far scattare il reato d'incauto acquisto. Il semplice sospetto di avere a che fare con la refurtiva deve far desistere una persona normale dalla conclusione dell'affare. Chi fa finta di non sapere, pur potendo benissimo accorgersi che la merce è rubata, è punito al pari di chi agisce col dolo, anche se con una pena inferiore. L'appropriazione di una cosa smarrita era un tempo un reato. Oggi invece è stata depenalizzata, quindi chi si impossessa di un oggetto che altri hanno perso per strada o dimenticato da qualche parte non commette più un illecito penale. Ma in determinati casi la scusa di avere tra le mani un oggetto smarrito non regge e non salva dal reato. Difatti, secondo la Cassazione, compie ancora un vero e proprio furto, chi prende per sé il cellulare è perduto da altri. L'appropriazione di cosa smarrita è esclusa perché il telefonino ha stampato dentro il vano batteria il codice e-mail che consente di identificarlo in modo univoco. E dunque l'imputato che ne è trovato in possesso rischia la condanna per ricettazione se non riesce a fornire una spiegazione attendibile sull'origine del possesso. Non è facile distinguere tra ricettazione e incauto acquisto. In linea di principio per far scattare il reato di ricettazione è necessaria la malafede che può consistere anche nella semplice impossibilità di dimostrare la provenienza dell'oggetto, il che è già prova del fine illecito. Già l'assenza di una giustificazione del possesso dell'oggetto rubato costituisce una prova della conoscenza dell'illecita provenienza. In pratica, senza tale motivazione, si rischia la condanna. L'acquirente per difendersi deve riuscire a dare spiegazione plausibile delle modalità con cui ha ricevuto l'oggetto e del fatto che in tale circostanza questi non potesse sospettare minimamente che si trattasse di merce rubata. Invece nell'incauto acquisto viene punita la semplice colpa, il fatto che l'acquirente non si sia minimamente chiesto come mai questa vendita appariva così conveniente e quindi non abbia posto attenzione sulle ragioni per cui gli è stata prospettata una vendita sospetta. In quest'ultimo caso, infatti, l'acquirente accetta il rischio di comprare qualcosa di illegale, senza farsi troppe domande. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.